Si chiama Omicron BA.2 e si tratta di una sottovariante del Covid. Sarebbe più contagiosa della sorella chiamata BA.1, ci sarebbe più forte, quindi maggiore capacità di sfuggire alla protezione offerta dai vaccini, però quando infetta una persona vaccinata ha una ridotta capacità di diffondersi in maniera ulteriore. Sono questi nuovi dati relativi alla nuova versione della variante Omicron che vengono, o meglio che ci arrivano, proprio dalla Danimarca, che vi ricordo di recente ha deciso di abbandonare Green Pass e maschile in quanto la Danimarca si proclama come paese uscito dalla pandemia. La ricerca ha analizzato diversi campioni di contagi e è stato disvelato che la Omicron 2 è sì più contagiosa, però è anche più, diciamo così, evasiva. Ora il termine evasivo sta ad indicare probabilmente che va ad evadere, che va a uscire, che non si mette in totale compromissione con le persone. Quindi questo è quanto. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione. La ricerca fa sapere che la sottovariante potrebbe essere però meno pericolosa. Il video termina qua. Ciao a tutti dal narratore italiano. Ovviamente chi vi parla sono io, non sono né un medico, né un dottore, né ho competenze mediche e mi sono affidato al web, a internet. Ciao a tutti da parte mia.